io non ho un cazzo sta pushandolo sti morto non me è sto morto cracato, te l'ho cracato eh no, eh no, tu mare però oh grazie brava, sei proprio brava bravissima proprio il nostro bersaglio cosa faccio? ti svegliati basta ma che basta schifo no basta dai no no dai basta sto immuovendo adesso chi la aiuti che prego continuo a mandarmi indietro non mi fa andare avanti basta ho finito tutti i mazzi non posso fare niente io impetanto è sto rumore del martello sì ma non ce la faccio più Ila non posso, non si può, non è il martello aspetta ti prendo con l'uccello non posso così il drone non mi fa ma che puoi vomita attenta Ila oddio la salvezza ti giuro sulla barca Ila io l'ho trovata Ila ti giuro sali 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 si pulizia te no no niente da te ora no 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 voglio no non voglio no no levati no Ila ok ottimo eccola niente ora riparte vabbè Ila è stato bello ti giuro ti giuro Ila non ce la faccio più non ce la faccio no 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 ti vuoi qualcosa in cambio te c'è Ila io la riprego aiutami tu aiuto è bellissimo con la barca god e ora non c'è questo c'è comunque notte che mi resta mezz'ora una tanto ora col martello vai a morire in fight quindi non è un problema non è vero va bene vediamo se legge un fight va bene magari con qualche mazzo che non ho potuto fare per tutto il tempo da te morirò spammata da due team va bene va bene no si va bene va bene va bene va bene va bene va bene vabbè io ce l'ho qua addosso mi ha fatto un misolo 29 niente son morta per colpa di mattina si per colpa mia dai mamma mia c'è chi è che mi ha lanciato giro ecco punto immagino si va bene c'ha dei vizi in palio non lo stava da me no non l'avrebbe mai fatto non ho nulla in palio voglio proprio romperti io sto qui non ho più maxi io non posso passare mi dispiace c'è ila vengo aiutarti vengo da te vengo da te vengo da te non lo maxi però ila sta veramente male non cado one shot matto un altro splash qua mamma io mi sto curando no da sopra è arrivato chiudi 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 jumpo apri sei salita no 99 è carico va bene io ora non dico non vai là ok ok tieni chiudo vai da macchina guarda 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 non capisco perché devono provare a fare queste cose ila qua c'è un loot della madonna anche qua qua c'è uno c'è gente infatti eh sì te lo volevo dire anche te me crackato guarda me te l'ho quasi crackato neanche l'ho scavata dietro non ho messo scaccato no l'abbiamo salvata in tempo fa niente raga lo stavano cercando c'era uno prima non c'è uno prima di raga non c'è uno non c'è uno si non c'è uno sicuro è arrivato il nostro team è white white 43 bianco fanni vedere fanni vedere chi solleva più pesi da 5 kg è morti non è accaduto questo il bianco io il il bianco bianco questo morto bravissima idropompa devo dire che è un game un game dove giorgia sei arrabbiata perché la piccana bebas è stato molto divertente vincerlo si 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 cosa hai 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 a tua discolpa cioè cosa ne pensi del fastidio che è stato all'inizio ma discolpati tu ma cosa faccio io no a tua discolpa no certo è colpa tua se ho fatto quello che ho fatto sai perché perché non eri luigiata no io sono sempre vista da lui ma che luigi che c'è una roba di luigi in croce parli ma ti svegli ho due di luigi e a breve tre quali sono le due qual è la seconda cosa che non sa no no perché l'altra si utilizza diversa solo che è più rovinata perché non la userei mai quando avrei quella nuova sono minchiate non la userai mai quindi Grazie a tutti.